Bene, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stappa di oggi 20 agosto. Voglio andare di fretta perché oggi, se ho fatto un po' tardi, ci sono un sacco di cose, un botto di cose da raccontarvi sui giornali di oggi, sono molto interessanti, anche se i temi sono sempre i soliti. Vi ricordo sempre sul sito nicolaporro.it e tutte le altre informazioni, ovviamente quelle più importanti della giornata riguardano la scuola, perché queste pippe, queste pippe, sulla cosa più importante che oggi ci sia, cioè far riprendere la scuola, che è ripresa in tutto il mondo, ci sono dei paesi in cui è già riniziata la scuola per un sistema scolastico diverso dal nostro. Bene, in tutti i paesi del mondo è già ripresa, l'unico paese al mondo in cui ancora stiamo qua a farci i fumi al cervello su come dovremo ritornare a scuola è l'Italia. Nel frattempo questi qua dicono che sono arrivati i banchi, oggi Capone ci spiega qual è il casino nel portare i banchi. Capone è lo specialista ormai dell'appalto sui banchi, quell'altra farsa che avrebbe dovuto portare al banco monoposto, come se oggi il problema in Italia è che sì, ci siano i banchi monoposto, perché se il banco è biposto ci si attacca la malattia, se è monoposto non ce la si attacca perché i ragazzi manterranno sempre quella distanza uscendo ed entrando dalle scuole. È un po' come prevedere, apriamo le discoteche e tanto poi dopo le discoteche non balleranno. Insomma questo è il concetto di questa idea italiana del costruttivismo scolastico. Nel frattempo Vanzina in un pezzo lirico, ma ovviamente fuori dal tempo, che io condivido al 100%, sul messaggero ci dice che è bello avere il banco con il vicino di banco. Ma comunque questa cosa qua ce la siamo persa perché oggi a parlare sulla scuola c'è sempre Miozzo. Chi è Miozzo? È uno del Comitato Tecnico Scientifico. Il capo del Comitato Tecnico Scientifico era, se non ricordo male posso sbagliare, il braccio destro, questo qua, di Bertolaso. Oggi viene considerato questo Miozzo una specie di fantastico signore da sentire tutti i giorni. Una lezione Bertolaso aveva insegnato ai suoi uomini. Parlate il meno possibile e soprattutto quando avete qualcosa da dire. Miozzo oggi parla, ha parlato ieri, l'altro ieri, l'altro ieri e il giorno precedente, probabilmente lo chiamiamo anche Quarta Repubblica, ma da noi non ci viene, e dice le sue cose che ovviamente sono quelle di un tecnico che non dovrebbe parlare su mascherine, quando metterle, quando non metterle, quando aprirle, eccetera, creando la solita confusione che abbiamo oggi per cui pare che siano obbligatorie le mascherine a scuola per i ragazzini sopra i sei anni e poi se ne tolgono quando interrogati, alcune volte no, alcune scuole oggi, spiega, il messaggero potrebbero essere aperte in modo scaglionato. Insomma, il più gran casino del mondo, sulla cosa più importante del mondo, e cioè la scuola. Tutto il resto sono accazzate. Il lavoro e la scuola sono esattamente i due pilastri di una società che vuol crescere. Tutti bravo draghi! L'unica cosa che devono fare è non fare bravo draghi, mettere nelle condizioni i giovani di fare qualche cosa, divertirsi, poter uscire la sera, fare sport e andare a scuola o no. Poi a un certo punto magari lavorare, semmai dovesse capitare in questo paese. Ma forse io sono un becero conservatore. Nel frattempo leggo Simonetta Shandivashi. Adesso mi scuso se non ho letto bene il nome, ma insomma non l'avevo mai letta, non la conosco questa ragazza che scrivo, questa signora che scrive sul foglio quotidiano. Tu capisci perfettamente che questa persona ha l'idea di saper scrivere bene. Qualcuno deve fare i conti con la scrittura. Io non so scrivere bene. L'annunziata non sa scrivere bene. Beh, certo, insomma, mettiamo delle distanze tra i due. Montanelli sapeva scrivere bene. Ci sono delle persone che sanno scrivere bene e altre che non sanno scrivere bene. Questa Simonetta Shandivashi non sa scrivere bene, ma un'idea ce l'ha. E cioè che quelli che vanno in discoteca sono degli cafoni. Sono dei cafoni. Non solo sono dei cafoni, ma sono anche un po' arretrati perché sono uomini degli anni Ottanta. Su questo non posso darle torto, essendo io degli anni Ottanta e amando l'idea della disco music degli anni Ottanta. Ma mi chiedo, toc toc! Simonetta Shandivashi, sei veramente sicura che i giovani siano così contenti di non andare in discoteca? Sei così sicura che i giovani per loro non è un elemento di libertà quello di ballare? No, io lo chiedo, perché voi leggete questa Shandivashi e pensate che ci sia VITIEELLO! Avete presente? VITIEELLO! Quello che è la parte chic di sinistra del foglio Fatto Quotidiano. Cioè quelli che potrebbero stare o al fatto o al foglio in maniera, diciamo, identica. Insomma, questi qui pensano che noi dovremmo stare come loro a leggere le biografie di Nietzsche. Bene, risalgono i contagi. Chiusa la parte sul gran casino della scuola. Su discoteche le abbiamo uccise, ma tanto che ce ne frega, no? Le discoteche e chi se ne fotte. Ieri girava una specie di cosa che mi hanno mandato gli amici. Toc toc! Amici, smettetela di mandarmi le cazzate di Casalino. Ieri girava una specie di, come si chiama, circolo, come fanno i Casalini, i Movimenti 5 Stelle. Io non capisco come gli amici miei, che conosco da anni, hanno fatto tutta una tabellina. 4 miliardi, ma che dite? Immaginate voi se il fatturato di 4 miliardi è quello delle discoteche con solo 16 milioni di utili. Cioè, loro prendono delle cose che trovano sulla rete, le fanno circolare e pensano che quella sia la verità. Questo è avvenuto ieri, quindi i discotecari pagano in nero, si drogano, fanno entrare... Cioè, sono la peggior razza del mondo. Poi lo fanno i miei amici cinquantenni, che fino a 25 anni magari si facevano come dei cabriolet e andavano nelle discoteche come se nulla fosse. Oggi però i loro figli non possono, fantastico. Però andiamo avanti. E comunque quelli che gestiscono oggi le discoteche sono tutti delinquenti che pagano in nero. Perfetto. Così sarà, se volete... A me non è fotte nulla perché comunque le discoteche, come ho detto, ho attaccato le All Star al chiodo. Risalgono i contagi. Grande compiacimento dei giornali unici del virus. Arrivano a 642. Mai così alti dal 23 maggio. Sentite questo titolo. Vacanze, feste, contagi, il caso Sardegna. Cazzo, che sta succedendo in Sardegna? Intervista a Solinas. Aumentano anche i morti. Sette. Sette. Ieri ci sono stati 500 morti per infarti, 400 per tumore, che magari potevamo diagnosticarli prima. Sette morti. Sette morti. Benissimo. Io vi invito a leggere un pezzo di Antonello Piroso, che magari pensa che io sia un negazionista, perché lui continua a parlare di questi negazionisti. Insomma, sarà come si chiama quell'altro, come Ricolfi, che quando uno non è d'accordo con il mainstream, cioè con Miozzo, deve essere per forza un negazionista. Ma oggi il pezzo di Piroso, di fatto, potrebbe essere definito dagli stessi che definiscono un negazionista, ma è un pezzo negazionista. Sapete perché? Perché Piroso fa una cosa banale, fantastica. Seguitemi, vi prego, seguitemi. Cosa succede ieri sull'agenzia? 17 alle 15.59. E vi ricordate il titolo del Corriere? Vacanze, feste, contagi, il caso Sardegna. 15.59, ANSA, la più importante agenzia italiana. Quella con cui io ci metto la mano sul fuoco e continuo a mettercela. Dice, focolaio, portocervo, ventenne romana, in terapia intensiva allo Spallanzani. In isolamento, i tre ragazzi del cluster del Circeo. Quindi loro ci dicono, alle 15.59, che una ragazza di quel portocervo, discoteche, ibiza, cattivi, giovani, in terapia intensiva, come per dire, vedete, ve la siete meritata. Questo lo scrive nelle prime cinque righe Piroso, raccontando l'agenzianza. Se non che, alle 17.24, dopo un'ora e mezza, il mitico Chiocci, direttore dell'ADN Kronos, telefona allo Spallanzani. Non ci vuole molto. Pronto, Spallanzani? Sono ADN Kronos. Sono l'agenzia ADN Kronos. Toc, toc! Cosa succede con questa ragazza? Come sta la ragazza? E dice lo Spallanzani, nessuna terapia intensiva. Alle 15.59 c'è una terapia intensiva. Alle 17.24 dicono che non c'è nessuna terapia intensiva e che i tre ragazzi non sono quelli del Circeo, ma sono quelli della Sardegna, che sono lì in ospedale e in una situazione clinica assolutamente perfetta e non negativa. Non hanno problemi di respiratori, non sono in terapia intensiva, non hanno l'ossigeno. Sono con un quadro in buone condizioni cliniche. Cioè capace che c'erano 39 di febbre, come dicevo io, e sono andati in ospedale perché c'hanno i genitori caga sotto, che invece di tenerli a casa li portano i ventenni in ospedale. Questa è l'idea geniale, perché io mi rivedo tutti questi che piangevano, non mi hanno fatto neanche il tampone, che te frega, non ti hanno fatto il tampone? Se non c'è la febbre stai a casa in isolamento, zitto e muto, ma questa cosa non gliela puoi spiegare. Meglio il tampone per tutti e le mamme che si preoccupano. Prima li mandano a Ibiza, poi li mandano a Portocervo, poi se c'hanno il Covid, non mi hanno fatto il tampone, quante ne ho viste di queste. Ma comunque il punto non è questo, il punto non è le mamme, che sono sempre le mamme, ma il punto è un altro, che questi poveri ragazzi, come dice Vanessa, hanno fatto altro che fare la loro vita, come abbiamo fatto tutti noi, un po' più fortunata, un po' più sfortunata, ma non c'è nessuna terapia intensiva, così come Piroso racconta. Vi ricordate la ragazzina dei 5 anni, purtroppo con quel grave malattia che aveva anche il Covid? E Piroso dice, dove è finita quella ragazzina? Avete messo nelle prime pagine, 7 pagine del Covid e c'era una bambina di 5 anni che stava morendo col Covid? Tutto falso anche quello, perché purtroppo per lei aveva una malattia ed era anche contagiata dal Covid, perché quando un bambino entra in ospedale comunque gli fanno il tampone per legge di fatto. E poi vi invito a leggere Bassetti, primario degli ospedali di Genova, che dice sul Corriere della Sera di oggi, leggetevelo, non vi fidate di me, pensate che io sia un negazionista, leggete, il clinico che dice, 9 casi su 10 degli attuali contagiati non hanno sintomi, non hanno nessun problema, non sono malati, e lo dice sul Corriere della Sera, io mi sgolo per dire, perché noi che cosa facciamo? Distruggiamo la scuola, le discoteche, voi non me ne frega niente, la vita normale, ma 9 su 10 non hanno sintomi, non valgono nulla, non sono nulla, e uno che ha i sintomi in realtà non ha sintomi gravi, tant'è che dice, mentre a marzo Bassetti, l'11% di coloro che avevano gravi sintomi venivano da noi e purtroppo morivano, oggi, sapete cosa succede? Oggi lo 0% di quelli che hanno sintomi muore, ma vabbè, continuiamo così. Politica, Movimento 5 Stelle, Crimi dice, il capo politico per mancanza di prova del Movimento 5 Stelle, dice, non si fanno le alleanze in Puglia e nelle Marche, andiamo da soli, e la candidata della Puglia, che si chiama La Ricchia, dice, mi hanno offerto di tutto per fare l'alleanza col PD e ritirarmi dalle candidature, sotto governo e non sotto governo, a me mi sta sulle balle Emiliano e fitto che sono i due candidati, io mi candido, questa è la posizione del Movimento 5 Stelle, così danno uno schiaffo in faccia, dice qualcuno a Conte che ieri sul fatto diceva, fate l'accordo, non si sa bene a quale titolo Conte che non è scritto al Movimento 5 Stelle e nel PD chiede a quelli di fare un accordo in Puglia e nelle Marche, un motivo solo c'è, Conte ha paura, come dice il giornale di Sallusti, perché uno che non è scritto al PD e al Movimento 5 Stelle vuole che si faccia un'alleanza in Puglia e nelle Marche, perché ci tiene all'energia? No, ci viene alla sua energia, che se quelle due regioni saltano probabilmente Conte ha qualche problema parlamentare, Veneziani un pezzo stupendo, ci racconta le solite menate della sinistra che vuole una destra europea, una destra senza Salvini, senza Rutti, senza questa gentaccia qua e poi dice, Veneziani, ma avete visto che cosa è questa sinistra? Cioè sto accordicchio tra PD e Movimento 5 Stelle, rompete tanto le palle alla destra e questa sinistra, tutti zitti e muti, quella del Casalino e della Raggi che si candida per la terza volta e del PD che cambia idea tre volte sul Movimento 5 Stelle, fantastico, Veneziani, leggetelo e poi dice l'unica cosa positiva di questa roba è che c'è un nuovo bipolarismo, poi in realtà voi attaccate la Puglia, la Lombardia, non si attacca mai la Puglia, la Lombardia, su Gallera, però in realtà oggi c'è ragione il giorno, il giornale in cui Ivano Costa scrive sul giornale editoriale, ma ragazzi ma siamo impazziti, ieri è partito un treno per 10 km senza il conducente e senza il capotreno, è deragliato e si è contusa una persona, ma insomma questa non è una cosa che si può accettare, come non si può accettare la merda dei treni pendolari in Lombardia, ecco noi qui iniziamo a occuparci dei problemi seri, cioè i pendolari in Lombardia e invece fingiamo che queste cose non esistano, io invece di fare 100 pezzi sulla sanità a Lombarda che non funziona, che funziona, mi occuperei dei trasporti lombardi, soprattutto quelli dei treni lombardi, che non funzionano, chiaro, non funzionano, basta prendere un treno dei pendolari e ci si rende conto che quello non funziona, sembra di stare in un'altra parte d'Italia, o meglio non ha gli standard qualitativi della Lombardia, vabbè, su questo ne riparleremo, sul referendum, posizione di Molinari, direttore di Repubblica e dice votate no al referendum, perché da 630 a 400 parlamentari, da 315 a 200 senatori è un taglio lineare, non è messo in una riforma, serve a poco, non semplifica, Vittorio Feltri dice sul Libero una cosa molto simile, votate no al referendum del 20 e 21 febbraio, perché in realtà aveva ragione Renzi in questo, se volevate semplificare le procedure cancellavate il Senato e quindi era tutto più semplice, ovviamente Travaglio la pensa in maniera completamente posta e dice ma come, il taglio dei parlamentari lo volevano anche le commissioni, i bozzi e la bicamerale, ovviamente a Travaglio sfugge una cosa semplice, come spesso a Travaglio essendo talmente fuori da ogni logica di credibilità sfugge, e cioè che quelle riforme bozzi, la riforma bicamerale tagliavano i parlamentari ma li tagliavano in una logica di semplificazione complessiva, invece questo, c'ha ragione Molinari il direttore di Repubblica, qua dici tagliamo i parlamentari, risparmiamo 50-60 milioni all'anno ma è che c'è risolto con 50-60 milioni all'anno che questi li buttano sui monopattini il problema non è risparmiare 50-60 milioni all'anno, è far funzionare le cose, i parlamenti le leggi in tempi credibili, ma abbiamo veramente risolto qualcosa, abbiamo soltanto alimentato la bestia dell'antipolitica, quella dei 600 euro e così, e il travaglismo d'accatto è stupenda, stupenda, ragazzi, la storia più bella di oggi è la storia tra questo Satragni critico musicale della stampa e la murgia, perché quando vedi questa roba e dici ma in che cazzo di paese viviamo? Viviamo quasi negli Stati Uniti, il peggio del peggio da questo punto di vista, perché dovete sapere che il critico musicale della stampa, ieri si è permesso di dire che la direttrice di un'orchestra importante era una donna e che lo faceva esattamente, fa esattamente quello che fa un uomo, apri di selo, la murgia, dice se è un sessista scrive un pezzo sulla stampa, basta pensare che una donna se fa una cosa bene vuol dire che lo fa come un uomo, e quello oggi gli risponde, dice io non volevo dire e quasi si scusa che fa una cosa come un uomo, volevo dire che ormai c'è una parità di genere, che le donne fanno meglio degli uomini queste robe, insomma, la sapete qual è la cosa ridicola? La cosa ridicola è che in questo paese ci stiamo veramente rincoglionendo come gli americani sul politicamente corretto e sulla cancel culture, se un signore dice che quello fa una cosa bene come un uomo, non ci vedo nessuno scandalo, se dicono che un uomo fa una cosa bene come una donna, non ci vedo nessuno scandalo, se diciamo che l'uomo e la donna sono non esattamente uguali, non ci vedo nessuno scandalo, quando vedo la murgia penso che tutto ciò non ha più nulla di umano, così non vale né per le donne né per gli uomini, perché è una che ti attacca, ti si aggancia qua alla gola per qualsiasi cosa che non sia strettamente politicamente corretta, io vorrei vedere la murgia, non sa tragni, vorrei vedere la murgia in un salotto new yorkese, là deve stare la murgia, deve trovarsi, dobbiamo catapultarla dalla Sardegna, dove è piena di cafoni che vanno a ballare a Porto Rotondo e la dobbiamo mettere in un grandissimo e grandioso salotto nuraghe new yorkese dove non ci rompa più le balle sulla questione di genere, là avrà solo amici suoi, solo cagacavoli che rompono le scatole sulla parolina, sulla cosa, sulle statue, è il posto della murgia, spediamo la murgia a New York, ma non perché io non la voglio in Italia, è talmente irrilevante che potrebbe stare anche qua dove mi trovo io, il punto fondamentale è che lei si troverebbe nel perfetto brodo di cultura che io non vorrei più vivere in questo paese, licenziamenti vietati, Italia Oggi titola, se sono sbagliati, sapete che succede? Hanno detto se voi ti facciamo fare gli sconti sui contributi sociali e poi andando a leggersi la norma Magnaschi e Italia Oggi che cosa si sono accorti? Se tu hai il 30% di sconto sui contributi sociali non puoi mai più licenziare quello che hai assunto, dei geni totali, Apple vale 2 mila miliardi di dollari, vale più Apple praticamente del PIL della Spagna, è quasi il PIL dell'Italia, è arrivata ai massimi anche Wall Street, c'è qualcuno che su Wall Street Journal dice beh attenzione perché ormai il rapporto prezzi utili è 23, cioè per comprarti il prezzo in un'azione ci metti 23 anni di utili, insomma è questo è un livello molto alto e quindi attenzione perché è a dei livelli che non si erano mai visti. Già cambiati i decreti di sicurezza, scrive Borgonovo per chi è interessato alla vicenda dell'immigrazione, direi che per oggi è tutto, caga cavoli pieno per il mondo, Lucia, bravo, Marilena vi ho saluto tutti quanti, vi ricordo come sempre che noi abbiamo la nostra zuppa e non solo la zuppa sul sito nicolaporro.it e vi do un abbraccio a tutti quanti, ciao!